bella a tutti ragazzuoli e bentornati in questo nuovo video oggi siamo ritornati su crisis 2 era per chi mi viene crisis 2013 Cristo Santissimo crisis 3 cazzo crisis 3 che palle bentornati su crisis 3 ok ora eravamo rimasti tutta la puntata che stavamo per cura e manco poco mi ricordo che era una cifra mi ricordo che era una cifra mi ricordo che era una cifra non è vero non dite bugie non mi avete mai visto non dite bugie bugie non ci dico no ok ok non è vero non mi avete mai visto mai mai non sei niente dove sta c'è non lo puoi non c'è non c'è non c'è non c'è non c'è no ok ecco l'altro che voleva morire velocemente ecco l'era ecco l'era rio rio è rotta, avrò un po' da mi ha occultato, vado l'occhio oh che pastetta questa cacca la merda non ho visto prima cazzo il fumo che stavo scivolando due bravo e devi ottenere più acqua cazzo ciao perfetto questo qui, il cecchino del cristo ha tutte le munition guarda qua è pieno di c4 non li vedo tutti in faccia e me li vedo tutti in faccia dietro l'rame trazzuzza Holy L'arcangelo arriverà tra cinque minuti Devo andare qua Va, flasso! E' l'osso! Ora, liberemo a noi un'altra partita devo dire che il gas è sicuro mi ricordo Poi c'è solo quello là, non c'è la scialla. Andiamo là in mezzo. E come ci si arriva? Ah, l'altra parte. Poi devo farci una qualcosa? No. Ok, posso pure andare senza... Cazzo, la torino. Tac, tac. Bravo, pensaci tu che è brava. Ah, devo andare qua sopra. Mamma mia, che culo. Che culo, signore. Dove sta il pannello per abbassare? Eccolo. Per farci questo? Sì, infatti. Vieni, vieni, vieni. Venghino, signori, venghino. Vieni, lo sta qua. No! Mi sono sbagliato come il coglione. Cioè, stavo per morire come una merda. Forca puttana. Cazzo. Amorire la munition. Ok. Ora dovrei entrare qua, se non sbaglio. O dall'altra parte. No, da quest'altra parte, perfetto. Mamma mia, che culo. Davvero, mi stavo morire come un coglione. E' quasi addosso, Robert. Muoviti! Dai. Dai così, dai così. Mancano pochi secondi. Cosa ha un bordello. Bordello, 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 bordello. No. l'abbiamo fermato cazzo l'abbiamo fermato percazza sembra che l'arcangelo fosse una carica parziale il 5% appena sotto la soglia della reazione a catena con l'energia c'è andata bene tutto qui ragazzi come un importista la roba faccio vedere a fine era un dispiace un gran più bella poi se volete capire un paio di cose un po' la storia il suo c'era questo ringraziato cosa? ma di che sei parlando? rush la terza e ultima fase il raggio si sta caricando è un fonte di Einstein l'osso maledetto quormone per la galassia M33 e arriva anche qualcosa di molto grosso nel rifugio non sono riuscito a ricavare una neppola sua idea e hai detto che era perché avevi creato tua vita ma non è il fonte di Einstein da quanto va avanti questa passata praticamente è un collegamento tra un spazio temporale e un altro qualche parola stavi combattendo controllamente alveare dei Jeff proprio come me ma tu hai perso e l'ho assorbito e adesso sei l'unitimato madre madre sono morte herzo che fa? in che fa? il che fa? il che fa? mamma ah buon puc settore oh ha presa alla rischietta oh ha presa la rischietta man che è pezzo di merda fai gli fare il volo della daguita ammazzalo questa merda ma solo così? ma gli devo proprio una fucile d'ancranio? ma che scherzo? che te sei in c***o? ma c***o guarda qua è fatto lerci da fa schifo guardalo qua è mannato qua questo si fa proprio di coca guarda qua è mannato è mannato da coca è mannato guardalo schifoso bastardo ci pioggia Senate ogni c***o Il progetto è un progetto, si mi da una progetto. ma non si stanno mettendo male ma se c'erano un po' inizio ma mando per il cazzo dacci tu quel po' che in uomo ne è maledetto schifoso la fase 3 è quella finale la più letale della strategia di colonizzazione dei uffici quando incontra una resistenza particolarmente tenacere una forza di incorsione CHEF tenta di aprire un punto Ponte Justin Roses dai che prima o poi caricherà eccolo dai, piano piano con calma non ci vanno ma lui vorrei sperare mamma mia mamma mia ragazzi ci stanno aprire il culo in una maniera abbominevole proprio cioè tiè guarda che roba eh va tanto la fine che esce fate poi un po' due cioè la fine che farete mamma mia la fine che farete buona va ragazzi non c'è ...nulla di tutti gli eventi. Nessuno dovrà fare... Purella! Ma certo! Grazie. Ma meglio così, allora. Va bene. Claire... Sai! Psycho, mi dispiace, ma non abbiamo tempo. Dobbiamo trovare un altro Beaton. Subito. Psycho, non chiamarmi così, cazzo. Psycho, dobbiamo disattivare quel raggio. Altrimenti moriranno tutti. Mi hai sentito? E cosa cazzo pensi che dovrei fare, eh? Io sono Michael Sykes. Sono solo umano, prophet! Non ho salvato neanche una fottuta vita, neanche una! Egoista figlio di... Idiota! Ancora non capisci! È Rush che mi ha rinchiuso per colpa di questa schifosissima tuta! Se l'avessi avuta anche tu, saremmo tutti morti! È la tua umanità che ci ha salvati! Eravamo tutti umani, Psycho! E tutti abbiamo combattuto! Io, tu, Nova, Jester, tutti! Noi abbiamo combattuto! Non le maledette nanotute! Adesso siamo rimasti solo io e te! Possiamo farcela! Un'ultima missione! Un'ultima missione! Lei non voleva che ti arrendessi! A tutti i canali! Qui botto un ribello in quattro! Serve il supporto! Il pilota è caduto! Siamo a terra! I cefri ci attaccano! Non resisteremo per... Dai, bella tu! Lo sai che hai il culo da Damantio! Psyche! Psyche! Tanto per essere chiari! Questo sarà un massacro! Ci puoi giurare, cazzo! E io sarò il macellaio! Dai, così te lo voglio! Ruzzo, Ruzzo! Non mi serve una tuta! Né la tecnologia! Eh, oddio! C'è pure una bella tecnologia! Non è male! Io porto il dito! Dai, su! Non è la fine del mondo! Non ancora! Ci vediamo dall'altra parte! E dai, così rompiamo sti culi, va! Allora... ... 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